Ancora frani in Abruzzo, ancora danni, ancora famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Prosegue la conta dei danni dovuti al maltempo, una conta che sembra aumentare anche dopo l'arrivo della primavera. Sono tantissimi i danni riportati dalla Regione e dopo aver dichiarato lo stato di calamità naturale, ora si attende la risposta del Governo su tempi e fondi a disposizione. A rispondere il Ministro all'Ambiente, Gianluca Galletti, che rassicura sull'intervento dello Stato. Il Governo in queste situazioni, anche in altre parti d'Italia, non ha mai fatto mancare il proprio appoggio e ha sempre dimostrato la propria vicinanza ai territori colpiti. A questo punto bisogna che la Regione, insieme alla Protezione Civile, in fretta faccia una ricognizione dei danni per presentare immediatamente al Governo lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri deciderà in fretta e in merito.